Sicuramente è un po' presto per poter avere delle impressioni credibili, perché alla fine è solo un giorno che ci siamo riuniti. Però il fatto che ci siano così tanti ragazzi nuovi e anche giovani fa ben sperare per il futuro, perché sembra che ci sia un ricambio importante e di valore. E questo era un po' un dilemma che qualche anno fa ci stavamo ponendo e probabilmente sembra in via di risoluzione.